quando la vita diventa una tempesta le nostre relazioni se funzionano bene sono come un albero al quale aggrapparci per sentirci protetti e al sicuro quel tronco sei tu per me io per te abbiamo radici che ci fanno sentire ancorati al terreno abbiamo braccia che diventano funi quando temiamo di essere scrappati via dal vento abbiamo mani che diventano rami innalzati verso il cielo per cercare la luce oltre le nuvole del temporale per invocare l'infinito nel nostro tempo finito diventare tronco radici rami è così che si rimane radicati alla vita un giorno durante il tempo del primo lockdown ho guardato fuori dalla finestra e c'era un albero stabile potentissimo era lì resisteva e soprattutto aveva una funzione incredibile mi dava il senso della continuità della vita ho immaginato che noi genitori per i nostri figli siamo davvero come un albero gli aiutiamo a mettere radici e trasferiamo dentro di loro il senso dell'appartenenza siamo solidi e quindi ci possono abbracciare in tutti i momenti di difficoltà poi gli aiutiamo anche ad alzare lo sguardo proprio come rami che si protendono verso il cielo è lì che sta scritto il loro futuro la vita si impara la vita si impara